La lupa di Giovanni Verga, tratta dalla raccolta Vita dei Campi. Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna, eppure non era più giovane. Era pallida, come avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e delle labbra fresche e rosse che vi mangiavano. Al villaggio la chiamavano la lupa, perché non era sazia già mai di nulla. Le donne si facevano la croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell'andare randaggio e sospettoso di lupa. Spolpava i loro figlioli e i loro mariti in un batter d'occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella, solamente a guardarli, con quegli occhi da satanasso, fossero stati davanti all'altare di Santa Grippina. Per fortuna la lupa non veniva mai in chiesa, né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltar messa, né per confessarsi. Padre Angiolino di Santa Maria del Gesù, un vero servo di Dio, aveva perso l'anima per lei. Maricchia, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto, perché era la figlia della lupa, e nessuno l'avrebbe tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone e la sua buona terra al sole, come ogni altra ragazza del villaggio. Una volta la lupa si innamorò di un bel giovane, che era tornato da soldato, e mieteva il fieno con lei nelle chiuse del notaro. Ma proprio quello che si dice innamorarsi, sentirse ne ardere le carni sotto al fustagno del corpetto e provare, fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore calde di giugno, in fondo alla pianura. Ma lui seguitava a mietere tranquillamente, col naso sui manipoli, e le diceva «Oh, che avete, gnappina!». Nei campi immensi, dove scoppiettava soltanto il volo dei grilli, quando il sole batteva piombo, la lupa affastellava manipoli su manipoli e covoni su covoni, senza stancarsi mai, senza rizzarsi un momento sulla vita, senza accostare le labbra al fiasco, pur di stare sempre alle calcagne di nanni, che mieteva e mieteva, e le domandava di quando in quando «Che volete, gnappina?». Una sera ella glielo disse, mentre gli uomini sonnecchiavano nell'aia, stanchi della lunga giornata, e i cani uggiolavano per la vasta campagna nera. «Te voglio, te, che sei bello come il sole e dolce come il miele. Voglio te!». «E io invece voglio vostra figlia, che è zitella!», rispose Nanni, ridendo. La lupa si cacciò le mani nei capelli, grattandosi le tempie senza dir parola, e se ne andò, né più comparve nell'aia. Ma in ottobre rivide Nanni, al tempo che cavavano l'olio, perché egli lavorava accanto alla sua casa, e lo scricchiolio del torchio non la faceva dormire tutta la notte. «Prendi il sacco delle olive», disse la figliola, «e vieni!». Nanni spingeva con la pala le olive sotto la macina e gridava «Oi!» alla mula perché non si arrestasse. «La vuoi, mia figlia Maricchia?», gli domandò la gnappina. «E cosa gli date a vostra figlia Maricchia?», rispose Nanni. «Ma essa ha la roba di suo padre, e di più io le do la mia casa. A me mi basterà che mi lasciate un cantuccio nella cucina per stendervi un po' di pagliericcio». «Beh, se è così se ne può parlare a Natale», disse Nanni. Nanni era tutto unto e sudicio dell'olio e delle olive messe a fermentare, e la Maricchia non la voleva a nessun patto. Ma la madre la ferrò per i capelli, davanti al focolare, e le disse coi denti stretti «Se non lo pigli, ti ammazzo!». La lupa era quasi malata, e la gente andava dicendo che il diavolo, quando invecchia, si fa eremita. Non andava più di qua e di là, non si metteva più sull'uscio con quegli occhi da spiritata. Suo genero, quando ella glieli piantava in faccia, quegli occhi si metteva a ridere, e cavava fuori l'abitino della Madonna per segnarsi. Maricchia stava in casa ad allattare i figlioli, e sua madre andava nei campi a lavorare con gli uomini, proprio come un uomo, a sarchiare, a zappare, a governare le bestie, a potare le viti. Fosse stato greco, elevanti di gennaio, oppure scirocco di agosto, allora quando i muli lasciavano cadere la testa Penzoloni, e gli uomini dormivano bocconi, a ridosso del muro a tramontana. In quell'ora, fra vespero e nona, in cui non ne va involta femmina buona, la Gnapina era la sola anima viva che si vedesse errare per la campagna, sui sassi infuocati delle viottole, tra le stoppie riarse dei campi immensi, che si perdevano nell'afa lontan lontano verso l'Etna nebbioso, dove il cielo si aggravava sull'orizzonte. «Svegliati!» disse la lupa Nanni, che dormiva nel fosso, accanto alla siepe polverosa col capo tra le braccia. «Svegliati che ti ho portato il vino per rinfrescarti la gola!» Nanni spalancò gli occhi imbambolati, tra veglia e sonno, trovandosela davanti, ritta, pallida, col peto prepotente, gli occhi neri come il carbone, estese, brancolando le mani. «No, non ne va involta, femmina buona, nell'ora fra vespero e nona!» si inghiozzava Nanni, ricacciando la faccia contro l'erba secca del fossato. In fondo in fondo, con le unghie nei capelli. «Andatevene, andatevene, non ci venite più, Nellaia!» Ella se n'andava, infatti, la lupa, riannodando le trecce superbe, guardando fisso dinanzi ai suoi passi nelle stoppie calde, con gli occhi neri come il carbone. Ma Nellaia ci tornò delle altre volte e Nanni non le disse nulla. Quando tardava a venire, anzi, nell'ora tra vespero e nona, egli andava ad aspettarla in cima alla viottola bianca e deserta, con sudore sulla fronte, e dopo si cacciava le mani nei capelli e le ripeteva ogni volta «Andatevene, andatevene, non ci tornate più, Nellaia!» Maricchia piangeva notte e giorno e alla madre le piantava in faccia gli occhi ardenti di lacrime di gelosia, come una lupacchiotta anch'essa, allorché la vedeva tornare dai campi, pallida e muta ogni volta. «Scellerata!» le diceva. «Mamma scellerata! Taci! Ladra, ladra! Taci! Andrò dal brigadiere, andrò! Vacci!» E ci andò davvero, coi figli in collo, senza temere nulla e senza versare una lacrima, come una pazza, perché adesso lo amava anche lei, quel marito che le avevano dato per forza un tue sudicio delle olive messe a fermentare. Il brigadiere fece chiamare Nanni, lo minacciò fin della galera e della forca. Nanni si diede a singhiozzare, a strapparsi i capelli, non negò nulla, non tentò di discolparsi. «È la tentazione!» diceva, «È la tentazione dell'inferno!» Si buttò ai piedi del brigadiere, supplicandolo di mandarlo in galera. «Per carità, signor brigadiere, levatemi da questo inferno! Fatemi ammazzare! Mandatemi in prigione! Non me la lasciate vedere mai più! Mai, mai!» «No!» rispose invece la lupa al brigadiere. «Io mi sono riservato un cantuccio della cucina per dormirvi, quando gli ho dato la mia casa in dote. La casa è mia! Non voglio andarmene!» Poco dopo Nanni sebbe nel petto un calcio dal mulo e fu per morire, ma il parroco ricusò di portargli il signore se la lupa non usciva di casa. La lupa se ne andò e suo genero allora si poté preparare ad andarsene anche lui da buon cristiano. Si confessò e comunicò con tali segni di pentimento e di contrizione che tutti vicini ai curiosi piangevano davanti al letto del moribondo. E meglio sarebbe stato per lui che fosse morto in quel giorno, prima che il diavolo tornasse a tentarlo e a ficcarglisi nell'anima e nel corpo quando fu guarito. «Lasciatemi stare!» diceva la lupa. «Per carità, lasciatemi in pace! Io ho visto la morte con gli occhi! La povera amaricchia non fa che disperarsi! Ora tutto il paese lo sa! Quando non vi vedo è meglio per voi e per me!» E avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della lupa che quando gli si ficcavano nei suoi gli facevano perdere l'anima e il corpo. Non sapeva più che fare per svincolarsi dall'incantesimo. Pagò delle messe alle anime del purgatorio e andò a chiedere aiuto al parroco e al brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi e fece pubblicamente sei palmi di lingua strasciconi sui ciottoli del sagrato davanti alla chiesa in penitenza. E poi quando la lupa tornava a tentarlo «Sentite!» le disse «Non ci venite più nell'aia perché se tornate a cercarmi, come è vero e Dio, vi ammazzo!» «Ammazzami!» rispose la lupa che non me ne importa ma senza di te non voglio starci. Egli, come la scorse da lontano, in mezzo ai seminati verdi lasciò di zappare la vigna e andò a staccare la scure dall'olmo. La lupa lo vide venire, pallido e stralunato, con la scure che luccicava il sole e non si arretrò di un sol passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro con le mani piene di manipoli di papaveri rossi e mangiandoselo con gli occhi neri. «Ah, malanno all'anima vostra!» balbettò Nanni.